Occhio alla break che innesca Moscardelli, Moscardelli con il destro e passa il Chievo, è un gol da favola, quattordicesimo minuto, un gol che Moscardelli non dimenticherà. E che gol, gran gol Paolo veramente, favorito da un rimpallo, è stato freddissimo, ha fintato di calciare di sinistro, ha ammorbidito la palla portandosela sul destro e ha battuto Andujar, assolutamente incolpevole.